shake your ass bitch sperando che non tu abbia cali durante di connessione dico a mia nonna di scollegare il pacemaker dal wifi scusa nonna devo stremmare cerca di far muovere il cuore da sola allora, incontro il demone fottuto capra cosa è importante? Uccidere i cani chi se ne frega di quelle mille l'importante è sopravvivere ecco, porca troia l'ho detto non si capisce un cazzo bravo, bravo, bravissimo no ma in un posto più piccolo ti ci vuoi mettere quanto paghi d'affitto? ma easy easy demone capra go 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 qua c'era un tizio grosso vero? eh lui scusa? no 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 lui è un nemico facilissimo a fare i perry quando ti fai l'attacco normale devi stare sempre davanti tu e i tuoi cazzo di perry di merda io non ci devo giocare con i perry dove mi sono incastrato dove sono no porca troia di merda di un gioco di merda cazzo mi sono incastrato dove sono la visuale from software la telecamera in quella zona non è per la visuale è per la tua arma è troppo lunga colpisci il soffitto che palle qua ci sono le sanguisughe su cose non vedo è lì si muove un polmono dai cadi non voglio farmi mangiare allora me ne sbatto dammi il palone ma ho scoperto la magia su dark souls 1 io ti giuro una idea identica si identica cioè non pensavo ti giuro che ero proprio ignaro di questa cosa che esistesse la magia tipo elder ring su dark souls dove stai andando? è a recuperare l'oggetto che prima non ho preso l'oggetto per paura adesso perché ero troppo ecco ho finito la stamina proprio sotto di lui pensate che stronzo dai mi è incastrato mi è incastrato mi è incastrato sei veramente stronzo fatelo dire fatelo dire sei proprio un figlio di puttana liberati uccidilo uccidilo ma che uccidilo chi se ne frega sposti almeno così te ne vai e l'ho fatto cioè lo picchiamo oh no tan 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 puoi farti umano e riavviare la fiamma con i dieci essus hai ragione che tu a inizio gioco mi hai detto non diventare umano e mi è rimasto oh no no io ti ho detto a inizio gioco non diventare umano perché nei borgo dei non morti la gente inizia a invadere dei figli di puttana ah qui è la zona peggiore sicuro che volessi che tornassi umano guarda che bello arriva la fiamma offre umanità eeeh ah questo è personale però quate quate e vabbè e vabbè questi i non morti sono i nemici più stronzi bastardi figli di puttana che esistano fanno degli attacchi senza se quello lì non può cioè non può stannarmi un coltellino da bastardi e tu pensa che è l'unico soul in cui la stabilità eeeh cesso cazzo vuol dire esser shottato così da un non morto stavo pulendo le raglie a te e t'ha colpito ma che cazzo vuol dire poi registrano le hit a casa di qua poi si va di qua c'è il frecciaiolo lo salutiamo ci andiamo su cos'era quella scorreggina ah ciao mazzo non ti avevo visto oh my god ok sta succedendo tutti resta caldo che è la procedura che è la procedura resta caldo dove sono finito e si va di qua ci sentite si che ho sentito era molto elettronico però come fa si la 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 eh no 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 e il mio cervello l'ha proprio cantata con gusto il cervello poi uno no sentite andatevene a fanculo voi tutti sti stronzi che hanno creato sto gioco di merda porco dio che al posto di diventare milionari potevano farsi cassi l'oro cassi l'oro lasciami stare vabbè comunque la fiamma della vera manza ti piace il mio tizzone? lo vuoi il mio tizzone? vabbè uccido questo qua sotto che vuoi che sia ciao mi ha spostato con l'attacco mentre schivavo oh si bravo titanite del demon grazie e vai dammi la tua vita no no staccati che carini si tenevano per mano aia che botta che posso che di merda ma io tutto sgrana ah eh perché mi piace il formaggio almeno ti pari evoco Soler il problema di evocare era doppia la vita che se tu evochi ha solo una domanda ti puoi evocare dai gargoyle Soler? no ottimo allora non serve evocarlo mai più perché non si completa la questione oh allora che senso ha giocare? perché perché oddio mio dai andiamo hai un'aura bellissima che belli i capelli qua mi ricordo oh cos'è un coccodrillo un serpente che bello che è Dark Souls di Yotobi porca vacca che bello ma scusami questo qua è tutto stomaco ah no lo stomaco è lì scusami hai ragione bella l'acqua che si crea qual'è la bocca? ma se questa è la bocca questo cazzo è il resto dai dai aia la coda la coda è mia bella la stamina fuoco cosa ti fa? beh è male sbocchi? non sbocchi per niente tu come credi di non ho noto che hai fame sai ma quindi mi volete dire che tutti i nemici con la coda li si può tagliare? oh ascia bipenne del re drago figo no 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 ma come ha fatto a farmi danno dai bevi? assolutamente bevi che mi corre in faccia questo ok un po' di piromanzia cazzo non l'ho beccata scusogli la tutta contro allora due mani adesso due mani no 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 e vabbè no 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 ok ok quando è che sbocchi? minchia se stai per sboccare porca troia se sbocchi ma no ma ti arriva ti arriva pure di oh dio santo ora ora ah scemo te l'ho tagliata la coda inutile che attacchi con la coda te l'ho tagliata ah 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 scemo si proprio ma adesso cammina questo ecco infatti no vabbè prendiamo l'oggettino intanto scusa eh prendo un attimo l'armatura figo oh santo padrono oh mio dio no stammi lontano ma dove cazzo guardi come fai a guardare aah dove hai gli occhi dimmelo voglio saperlo ok uno nice shot dai però colpiscilo una volta dai 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 ancora uno dai ricarica ricarica uno dos non facciamoci ingolosire che questo mi si ingolosisce ancora di più dai 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 aah mmm va bene va bene va bene retra dai 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 vai vai che adesso ti uccido sei morto sei morto easy 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 ko 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 50 di forza solo dai voglio solo vedere oh madonna guarda che fatica che fa vabbè c'è un po' senso si chikatana mi amor adesso tutti i bosche batto gli faccio il go 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 così beh questo è un po' un terzo dito ma scusami hai regalato l'abbonamento così? a chi l'hai regalato? ha regalato un abbonamento community e quindi a chi verrà data? vabbè non hai regalato a cosa si ma a Lela davvero? il culo no io qua non scendo adesso sapete? ci vediamo poi esci dalla partita yes bello 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 è andato bene per una volta molto contento i sborrini? sborrini? yeah niente per scorregini? niente per scorregini? oddio no ma teniamogli scorregini siamo buoni va bene vado che devo vado a cercare cucine da caccia di cucine faccio una live earl con mio padre no e niente no ma ciao